Ragazzi gliel'abbiamo detto a chiare lettere stavolta, o qua ci danno una mano le istituzioni, la politica e le aziende si mettono le mani in tasca, altrimenti non si tratta, 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 perché qua gli unici che non portano a casa abbastanza per pagare le bollette, per pagare di scaldamento siete voi, siamo stanchi, siamo stanchi da quello che loro non hanno ancora capito, che siamo stanchi ma stavolta siamo uniti e non ci fermeremo.